Adesso chiudiamo con una notizia di musica che andiamo a leggere direttamente dal nostro sito internet www.rete8.it All'Eurovision Song Contest 2021 con il rock dei Maneskin vince anche un po' d'Abruzzo. La bassista del gruppo, Victoria De Angelis, ha infatti origini abruzzesi, come si legge in un post della popolare pagina Facebook, l'abruzzese fuori sede. L'Abruzzo vince l'Eurovision Song Contest 2021 per la prima volta nella sua storia. Il padre di Victoria è infatti originario di Mascioni, frazione di Campotosto, in provincia dell'Aquila, sulle rive dell'omonimo lago.